ciao fragoline e ciao a tutti benvenuti alla terza parte adesso non so se metterò i prodotti finiti insieme in due settimane o dividere le parti adesso non lo so preferirei dividerli perché non è che sia tanto bello vedere sempre gli stessi video per cui preferisco dividerli non li metterò insieme per cui non so quando vedete questi video comunque iniziamo a finire questi prodotti che forse è meglio perché ho già fatto tre video solo per prodotti finiti che dopo vi faccio vedere sinceramente quanti sono ok iniziamo iscrivetevi al canale un bel mi piace e lasciate un commentino qua sotto in più seguitemi su instagram tagliamo corto iniziamo con i rossetti revolution pro allora il video di questi l'ho già fatti non so se lo vedete prima di questo dopo o se l'avete già visto non lo so comunque ovviamente non l'ho consumati ancora ce l'ho lì ma siccome dovrei buttare la scatola per farvi vedere che qualcuno è interessato vi faccio vedere per il momento mi sono mi sto trovando bene sono dei rossetti diciamo buoni poi nude sono buoni come colori idem per cui mi sto trovando bene l'unica cosa che preferirei forse colori tipo rosso così che mi piacciono di più che in nude in nude preferisco forse tipo liquidi perché quelli non liquidi tipo questi ora che li finisci ci metti tanto per cui questo se mi chiedete che il rossetto non è di questi ve lo dico già è un rossetto non di marca per cui ce l'ho che lo dovrei consumare per cui dico che non è un rossetto di marca però diciamo che mi sto trovando bene con questo invece la colorazione è questa proprio già fatti vedere già due volte per cui non sto lì a ripetere invece lui il primer effetto viso spray effetto fresco cool questo della di glossif allora direi che buono è ottimo come prodotto solo che vorrei provare questo il prime alla sefora anche se di sicuro costerà tanto vorrei provare questo prodotto alla sefora perché quello di glossip vabbè lo devo ancora finire però è buono poi siccome glossip non ce l'ho più qui diciamo che preferisco usare altri prodotti e provarli altri invece di provare sempre gli stessi però questa è la prima volta che l'ho provato e direi che è buono mi piace non è male invece questo questo eyeliner boccerei allora questa è la scatoletta non ho ancora finito ci metterò tanto a finire col prodotto uno perché non mi piace due è piccolo così ma l'applicazione si può essere facile applicarlo il problema è che non è liquido giusto è duro c'è una consistenza dura per cui lo boccio per la consistenza che a me non piace ed è questo qua della L eyeliner gel che secondo me è molto duro non lo so e non mi piace infatti fa così ve l'ho fatto vedere nel video degli acquisti però non mi piace per cui lo boccio ci metterò tanto a finirlo perché io sono una che se i prodotti ti fanno cagare che non mi piacciono li finisco dopo 20 anni perché quando non mi piace un prodotto lo finisco dopo 20 anni lo so che potrei buttarlo potrei regalarlo a qualcuno però regalare qualcosa che tu hai già usato a me non piace prima di tutto anche perché non è che sia tanto bello regalare un prodotto usato primo poi a me buttare i prodotti che non ho che ho utilizzato solo una volta o due perché non mi piaceva non mi piace non sto lì a buttare i prodotti anche se non mi piacciono tipo il profumo se a me non piace un profumo io non sto lì a buttarlo cioè lo utilizzo per qualcosa per il bagno qualcosa ma non è che lo butto perché uno c'è gente che non può permettersi di prenderli e a me non piace questa cosa che devo buttare le cose così per cui sinceramente io lo finisco a tutti i costi anche se non mi piace eccetera preferisco finire a tutti i costi i prodotti che buttarli o regalarli che sono utilizzati per cui io sono fatta così sinceramente perché molte persone specialmente i parenti dicono ma se non ti piace quella cosa lì prendilo butti o pulire i regali ma come faccio a buttare un prodotto cioè non è bello sinceramente poi questo qui che ancora non ho capito come si usa ho provato a metterlo sulle labbra questo della essence vi ho fatto vedere anche il video però nessuno mi ha detto come si usa perché forse non l'avete provato se qualcuno l'ha provato me lo fa sapere sotto nel commento per capire come si usa allora lip power weather perché c'è scritto che in teoria va messo sulle labbra cioè in senso sul sito c'è scritto che va messo sulle labbra ma io l'ho messo sulle labbra e mi veniva da vomitare per cui a me in teoria sembrava un ombretto sinceramente non lo so o lo scoprirò da sola ancora non l'ho utilizzato l'ho utilizzato solo per le labbra perché c'era scritto per le labbra però fatemi sapere se l'avete provato e come e come si diciamo si usa perché è una cosa io odio quando non sai come si usano i prodotti allora i prodotti della casa i make up sono finiti cioè della casa abbiamo mostrato solo i make up mi sembra di sì per cui i prodotti i make up sono finiti vi faccio vedere per queste quattro cose che ho ad esempio il latte perché ho visto dei video che fanno cioè che fate voi sui vostri canali dei prodotti finiti di food tipo mangiare robe della cucina eccetera no per cui ho detto perché non lo faccio anch'io appena posso con un po' di prodotti ve lo faccio ne ho solo quattro e vi faccio vedere questi che ho finito allora questo qui è il latte granolo grana loro a lunga conservazione questo è buono come latte per cui se vi piace il latte è buono ve lo consiglio vabbè vado veloce perché sennò sto di bidura troppo poi vabbè la mitica coca cola ho finito la mitica coca cola io ne vado pazza della coca cola normale 1 euro e 69 solo che non fa bene bere tanta coca cola specialmente berla quasi tutti i giorni o un giorno a settimana per cui non fa tanto bene infatti sto cercando di evitare di berla solo che quando mi amma comprare la coca cola o la fante eccetera di più però la coca cola mi piace divento pazza e allora me la bevo tutta me la bevo però non va bene però è buonissimo ve lo straconsiglio se amate la coca cola ve lo straconsiglio poi vi straconsiglio il ginseng al caffè queste qui in bustina prese se non ho sbaglio le led e euro spin le trovate sono ottimi sono 10 bustine così sono fatte così le bustine sono ottime basta solo mettere l'acqua calda o anche fredda come volete io metto l'acqua calda metto dentro la bustina e la faccio sciogliere girando il ginseng secondo me è buonissimo questo qua è cremoso gusto energia sono 10 bustine mi sono trovata bene ed è ottimo per cui se volete provarlo ve lo straconsiglio l'ultimo prodotto finalmente perché questi questo video questi tre video che ho fatto duravano di sicuro più di due ore vi faccio vedere questa mi faccio vedere questa qui questa è il la carta da cucina quella che assorbe cioè assorbe sì assorbe l'acqua così è buona qui c'è scritto che sa di limone sinceramente non sa di limone perché l'odore non si sente però sono 600 strati 600 strappi garantiti mazirotoli profumati al limone della Nikkei comunque è grandissimo il pacco sì è buono ma c'è una normale diciamo scotet che ci può stare l'unica cosa che non capisco qui c'è limone ma non so di limone qui non lo so comunque qui è questo era l'ultimo l'ultima cosa finalmente e per farvi capire per farvi capire quanta roba c'era per far sì che c'è vedete quanta roba è c'è avete capito quanta roba c'era in un sacchetto enorme enorme per fare solo questi tre video che poi vabbè io mi metto a parlare per cui lasciamo perdere però niente questi sono stati i prodotti fatemi sapere se siete interessati a questi generi di video che lo farò anch'io se siete interessati dei prodotti finiti come il latte le patatine tutto quello che c'è da mangiare così se siete interessati così invece di buttarli li prendo li metto da parte perché mi ama se no li butta se siete interessati fatemelo sapere sotto nei commenti così almeno ve li mostro vi faccio vedere anche come mi sono trovata perché sinceramente come video è anche interessante io ho visto questa ragazza qua che mostrava prodotti che ha finito la carne le patatine queste cose qui ovviamente la scatola e ha detto se si trovava bene se erano buoni per cui se siete interessati anche voi che volete sul mio canale ditemelo sotto qua nei video vediamo quante persone lo vogliono così e meno lo faccio tanto per fare video nuovi ok detto questo 12 minuti e tanto noi ci vediamo al prossimo video questa volta nuovi video non solo questi scusate davvero se sono durati tanto perché ovviamente sono una che invece di accorciare mi dilungo vabbè almeno c'è qualcosa di interessante anche sul mio canale con questi prodotti finiti giuro che ora che vedete i prodotti finiti se ne parlerà forse a dicembre di sicuro di prodotti finiti ve lo farò dividere anche a dicembre anche perché non è che sto lì a farvele vedere tutti i mesi i prodotti che ho finito per cui va bene vi saluto noi ci vediamo al prossimo video grazie per aver visto tutte le tre parti adesso vedrò se metterli insieme o staccati con i video e vediamo niente fatemelo sapere sotto nei commenti su quello che ho detto del nuovo video e mi raccomando iscrivetevi al canale un bel mi piace e seguitemi su instagram se volete essere aggiornati sulle cose che uso che mangio o qualcosa del genere al prossimo video ciao